Sky debutta nel mercato della mobilità con 25 canali della propria offerta lineare e un sistema nuovo chiamato Sky Go. Quanto conta per voi l'innovazione e quali obiettivi volete raggiungere con questo particolare progetto? L'innovazione per noi è ovviamente fondamentale, usiamo la tecnologia per migliorare l'esperienza di visione dei nostri clienti ed soprattutto sono scelte di innovazione tecnologica che vanno tutte nella direzione di semplificare la vita, l'esperienza d'uso, le modalità d'uso della televisione dei nostri clienti. Quest'anno abbiamo investito 100 milioni di euro in innovazione tecnologica ed è tutto in un'innovazione accessibile, quindi un'innovazione che rende molto più semplice il modo di utilizzo della televisione. Questa è un'offerta che per ora è stesa gratuitamente ai vostri abbonati HD, quanto pesano nelle famiglie abbonate Sky e quale sarà l'evoluzione naturale di questa vostra offerta? Le famiglie che hanno scelto l'HD sono la grande maggioranza, oggi 73% dei 5 milioni di famiglie ha scelto l'HD e sempre di più, sempre più famiglie ogni giorno scelgono il servizio HD perché migliora straordinariamente l'esperienza di visione di Sky. Per facilitare ancora di più l'adozione dell'HD da parte dei nostri clienti oggi abbiamo un'offerta molto forte, per cui regaliamo di fatto il decoder, chiediamo ai nostri clienti soltanto un contributo di installazione di 49 euro, questo sta permettendo anche in questi giorni di aumentare enormemente il numero di famiglie abbonate HD e quindi vogliamo portare tutta la nostra customer base a fruire di contenuti HD. Tutti i clienti che sceglieranno, che hanno scelto oggi, sceglieranno in futuro l'HD potranno avere il servizio Sky.go sempre gratuito, quindi questa non è un'offerta di lancio, è una scelta ben precisa e strategica che Sky ha fatto per migliorare l'esperienza di visione dei nostri clienti, quindi posto che abbiano scelto l'HD avranno il servizio Sky.go gratuito. Come verrà lanciato il servizio a livello mediatico? A livello mediatico comunicheremo innanzitutto il servizio ai nostri clienti, che sono per noi la risorsa principale, quindi particolare attenzione soprattutto a comunicarlo a loro come regalo a tutti i clienti HD, anche come spinta per spingere in televisione sulle nostre reti ovviamente, poi faremo anche campagne web e via via gradualmente anche sugli altri mezzi. I vostri partner in comunicazione in questo caso per la realizzazione dei format pubblicitari? United, l'agenzia creativa che ci ha aiutato nello sviluppo della campagna creativa e MEC per la pianificazione media.